buonasera buonasera benvenuti grazie siamo molto felice di avervi tutti qua con noi e tanti hanno detto grazie ma in realtà siamo noi di dover veramente ringraziare voi perché siete tutte quelle persone che hanno veramente creduto nel progetto fin dall'inizio art for sport è una realtà che è nata 13 anni fa e l'idea era di dare una mano ai ragazzi con amputazioni a riprendere la propria vita attraverso lo sport fornendo loro protesi carruzzine ad oggi abbiamo 43 ragazzi che sono sparsi in tutta italia parlando di inclusione we embrace noi abbracciamo facciamo fare sport ai bimbi disabili insieme ai bimbi normo il mondo paralimpico è fatto di storie che sono veramente ispirazionali gli awards è l'occasione per celebrare storie di persone che ne abbiamo definito normali ma che fanno cose fuori dal normale i feel the responsibility to live up to your example you inspire me to work for european union where everyone can enjoy the same opportunities and participate fully in society on an equal basis with others il riconoscimento che mi fa strapiacere lo custodirò in mezzo ai miei tesori e ricordi più preziosi avevo spider-man di fianco era in veste di peter parker però era spider-man ci ha raccontato la sua storia avrei voluto fargli mille domande ho scelto di adottare alba perché sentivo forte un istinto di paternità e non vedevo la problematica della sua disabilità sono soprattutto felice di ascoltare le storie di questa splendida cerimonia e di esserne io ispirata mia volta penso che sia una bellissima opportunità soprattutto per far conoscere come si dice la diversità che diversità non è sono molto contenta e felice di far parte di questo progetto una grande emozione che conferma che si possono abbracciare tutte le diversità trovo che i premi inclusivi e comunque gli eventi che raccontino delle belle storie di riscatto siano ciò che può cambiare davvero il mondo è un riconoscimento straordinario perché arriva in un contesto straordinario di inclusione vera in cui la diversità è una ricchezza riconoscimento significa che sei stato riconosciuto che qualcuno ti ha visto intanto non presentavo una serata da tantissimi anni e ho accettato di farlo in questa occasione perché erano tutte storie meravigliose mi ha lusingato che abbiano pensato a me per presentarle sono stato molto onorato di essere qui le storie di persone stasera ci hanno proprio fatto capire quanto fosse importante dire impegniamoci tutti insieme per fare qualcosa per gli altri per riuscire a far felici tutti quanti è stato bello 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 non vedo l'ora che arriverà l'anno prossimo